benvenuti a good morning lazio beh non tanto good morning però andiamo avanti no la sessione di calcio mercato invernale si è chiuso ieri sera si è chiuso con il solito colpo di scena della lazio che ormai tanto colpo di scena non lo è più ovvero il trasferimento fallito all'ultimo secondo ripecorriamo un po la giornata di ieri iniziata presto con le dichiarazioni del presidente claudio lotito apparse sul messaggero in cui il presidente diceva che la lazio non farà nessun acquisto perché la rosa già competitiva così com'è e soprattutto non vuole alterare gli equilibri della dello spogliatoio bianco celeste per questo motivo la lazio non farà operazioni si arriva fino all'ora di pranzo con calma piatta poi all'improvviso spunta la notizia che la lazio sta trattando l'esterno sinistro del fenerbace kent giocatore inglese nato calcisticamente nel settore giovanile del liverpool da giovanissimo grande promessa del calcio inglese promessa non mantenuta finito a giocare in scozia nel rangers ha fatto tre anni molto buoni tant'è che ha conquistato la finale di europa league con i rangers già protagonista lo scorso anno ha chiuso il contratto con rangers non ha rinnovato è andato a parametro zero al fenerbace in turchia non si è trovato bene anche perché doveva venire a fare l'esterno sinistro poi è arrivato under dei cambi all'ultimo momento e si è ritrovato un panchina per questo era sul mercato la lazio imbastisce l'operazione si trova l'accordo abbastanza velocemente prestito con diritto di riscatto intorno alle 4 sembra addirittura operazione in chiusura così dicono di marcio e pedullà ovviamente da laziale non mi fido e puntualmente intorno alle 7 arrivano le problematiche sembra che il fenerbace non abbia pagato gli arritrati al giocatore per questo motivo il giocatore non voglia firmare con la lazio la lazio prova a risolvere il problema ma ormai troppo tardi e il giocatore e l'acquisto del giocatore salta e la lazio chiude il calcio mercato invernale senza acquisti dopo il gong dopo la chiusura del mercato intorno alle otto e mezza esce la verità ovvero uno di intermediari perché quando fai queste operazioni internazionali di solito c'è una gente che collabora per facilitare le operazioni ovvero terraneo dichiarerà che in realtà non c'era nessun problema con gli arritrati col fenerbace semplicemente il giocatore aveva cambiato idea spiegherà anche terraneo che nel corso della giornata più volte kent aveva mostrato reticenze all'accordo con la lazio nonostante al fenerbace non giocasse quindi intorno alle 19 semplicemente il calciatore aveva detto no grazie resto in turchia ed è questo il problema almeno secondo l'intermediario per cui il giocatore non è venuto a roma e quindi la lazio ha chiuso il mercato senza nessun acquisto senza dare a sarri quell'esterno d'attacco che lui aveva fortemente chiesto e ancora una volta la lazio chiude il calciomercato senza un acquisto in realtà non è così perché la lazio ha preso dal dubbio di Gianni di Gianni però è un 2006 e andrà ad arricchire la primavera della lazio che domenica prossima giocherà contro juventus e di Gianni sarà già disponibile per questa partita importantissima per il campionato primavera per cui la lazio un'operazione ha fatta ma l'ha fatta solo per il settore giovanile la lazio ha fatto un paio di operazioni uscite abbiamo già parlato da tempo di basic ma c'è un altro giocatore che ha lasciato la lazio parliamo di rossi non so se ve lo ricordate attaccante della primavera della lazio dove ha battuto tutti i record di gol a livello giovanile se ne parlava benissimo ma la sua presenza ma la sua carriera professionista non è andata benissimo alessandro rossi infatti non ha trovato successo a livello professionistico e la lazio ha deciso di rescindere il contratto col calciatore e quindi adesso alessandro rossi è svincolato e potrà trovarsi una squadra lo scorso anno alessandro rossi è andato al monterosi dove purtroppo causa anche tanti infortuni non aveva praticamente mai giocato altra notizia di calcio mercato perché con seisau a fine stagione lascerà il porto l'ex giocatore bianco celeste infatti ha annunciato che non rinnoverà il contratto col porto e quindi a fine stagione lascerà il club portoghese una nuova avventura alla lazio chi lo sa però il giocatore l'allenatore è a disposizione chiudiamo la pagina di calcio mercato anche perché per la lazio ce n'è poca e parliamo di mandas perché il suo agente diego davano ha parlato di mandas dicendo che che la trattativa è nata così era un giocatore che è stato il miglior portiere in grecia nella passata stagione aveva tantissimi interessamenti c'erano anche un paio di squadre italiane ma la lazio è stata più veloce è arrivato con grande entusiasmo si è messo subito a disposizione doveva inizialmente tornare in prestito all'officleta ma la lazio ha voluto trattenerlo durante gli allenamenti fa vedere delle cose di grande livello sono contento che al derby che non era una partita facile abbia dimostrato di essere tranquillo durante la partita ha fatto bene con i piedi e poi ha fatto quell'intervento alla fine è un portiere maturo pronto e di grande prospettiva staremo a vedere il futuro di mandas ha parlato anche la gente di tati castellanos che ha detto che ha iniziato a seguire tati già nel 2018 che voleva portarlo in italia già da quell'anno ma non c'è riuscito anche perché castellano se questa notizia importante ancora non ha il passaporto comunitario questo perché nonostante chiari origini spagnoli non si è trovato l'avo europeo per consentire al giocatore di prendere il passaporto spagnolo e quindi comunitario dice il suo agente marco bassetti che la gara non gli manca si vede nel suo modo di intendere la partita fatta di sportellate nonostante non sia il prototipo del numero 9 a riete perché gli manca qualche centimetro speriamo possa migliorare il numero dei gol sta giocando con più continuità abbiamo rammarico della rovesciata per pochi centimetri quella contro il napoli vedersi annullare un gol così per pochi centimetri è una cosa che ti rimane in ingesta lasciamo anche tati castellanos per parlare un po di campo perché la lazio ancora una volta si è ritrovato a formello senza patrick e zacchiagni lo spagnolo si sta curando in patria ed è sicuramente fuori per la partita successiva contro l'atalanta ma rischia anche di stare fuori a lungo mattia zacchiagni perché zacchiagni ha riportato un problema all'alluce contro udinese ha stretto i denti contro la roma in coppa italia e il lecce campionato al stato bandiera bianca come vi ricorderete tutti arriate in semifinale di coppa di supercoppa italiana contro l'inter e non è sceso in campo neanche contro il napoli bene c'è il pericolo che il giocatore oltre alla partita della davanti assalti anche la partita successiva perché non riesce ad allenarsi a dolore e non si riesce a risolvere questo problema quindi sarri che ha chiesto un esterno d'attacco si ritroverà con i giocatori contati là davanti perché c'era il mobile dovrebbe tornare di titolare a bergamo e sulle fasce agiranno verosimilmente felipe anderson e isaacsen con pedro in panchina e sana fernandez probabilmente aggregato alla prima squadra questa direi che è l'ultima notizia di venerdì 2 febbraio vi ringrazio a tutti per aver seguito questo prodotto vi ricordo che lo trovate sul mio canale youtube sulla mia pagina facebook e in versione podcast ovunque ascoltate i vostri podcast io vi chiedo gentilmente di mettere un mi piace al video su youtube di condividere con gli amici per aiutarmi a crescere il canale e se siete su podcast mi raccomando iscrivetevi e noi ci rivediamo oggi pomeriggio alle 2 con un nuovo video su youtube grazie grazie a tutti grazie a tutti